Provando a confrontare i dati con quelli del luglio dell'anno scorso, si può avere un'idea delle proporzioni e dei ritmi con i quali gli arrivi di migranti stanno aumentando in questo 2015. Frontex, l'agenzia europea che si occupa anche di coordinare la missione Triton, segnala 107.500 arrivi in Europa solo a luglio. La cifra è più che triplicata rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Che già l'andamento degli arrivi fosse in crescita era chiaro dai numeri dei primi sei mesi del 2015, 340.000. Insomma, in sei mesi si è superato il numero dei 12 mesi del 2014, che era stato di 276.000. L'ultimo barcone soccorso in ordine di tempo, oggi con circa 300 migranti, raggiunti a 180 miglia sud-est. Intanto, dopo l'ultima tragedia nella quale 49 migranti sono morti asfissiati nella stiva di un barcone, saranno ascoltati in questi giorni dai magistrati gli otto presunti scafisti che si occupavano di gestire il peschereccio. Sono il comandante del barcone, un marocchino di 20 anni, i componenti e l'equipaggio di nazionalità mista tra libici e marocchini e un sedicenne siriano. Alcuni dei 321 migranti che erano sul barcone hanno raccontato di pugni, calci, bastoni e cinghiate nei confronti soprattutto di quei migranti che cercavano di uscire dalla stiva, in cui erano ammassati e nella quale sono morti a causa della mancanza di aria e dell'esalazione dei gas e di scarico. Grazie.